Si resta in attesa del nuovo DPCM previsto tra il 7 e il 15 gennaio quando si tornerà alle regioni divise in zone, in base anche all'indice RT che d'esta ancora preoccupazione in diverse regioni, incognita per la Calabria che è una delle tre regioni dove l'indice supera l'uno e proprio per la Sicilia dove i dati degli ultimi giorni sono sempre preoccupanti. Una lenta decrescita della curva del contagio ma con l'indice RT in aumento e nel primo bollettino del 2021 il tasso di positività al 14,1% ancora in crescita. Con questi dati una parte del paese allo scadere del decreto di Natale il 6 gennaio potrebbe finalmente tornare in zona rossa o arancione. A rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria ma nessuno può ancora escludere proprio la Sicilia che resta la regione a rischio per dati non del tutto confortanti. Probabilmente da dopo le feste potrebbe nuovamente essere dichiarata zona arancione. Per determinare il colore, quindi i divieti, sarà certo determinante l'RT oltre all'organizzazione del servizio sanitario. Essere sopra o sotto il valore di uno può far la differenza. La Sicilia in questo momento con il suo RT a 0.93 è classificata tra i territori a rischio moderato e quindi ha il rischio di essere classificata zona arancione. Attualmente è previsto che dopo il decreto le regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle tranne l'Abruzzo arancione, ma l'andamento del contagio non rende scontato che sia proprio così. Sarà il governo a decidere la prossima settimana a seguito delle verifiche effettuate dagli esperti sul nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità. La data della riunione della cabina di regia per il monitoraggio regionale non è ancora stata resa nota. Intanto il primo bollettino nazionale del nuovo anno registra 22.211 nuovi casi e 462 vittime nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive al covid in Italia salgono per il secondo giorno consecutivo. Grazie. 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 Grazie.